La volontà del Governo è quella di riaprire le scuole dopo Pasqua, anche nelle zone rosse. L'ho annunciato il Premier Mario Draghi. Il piano è quello di riaprire le scuole primarie dell'infanzia allo scadere dell'ultimo DPCM. Bisogna iniziare a programmare il ritorno sui banchi in Abruzzo, ha dichiarato il capogruppo in regione del PD, Silvio Paolucci, che ha presentato un'interpellanza all'emiciclo. Un'interpellanza per conoscere le intenzioni del Governo regionale. Ci sono interi luoghi, in particolar modo l'area urbana, Pescara, Chieti, dove le scuole sono chiuse ormai da due mesi circa. E quello che noi chiediamo è chiarezza. Nelle settimane passate, nei mesi scorsi, troppa confusione su questo punto delle scuole e anche su altri aspetti, lasciando nella caos più totale famiglie, comuni e comunità. Quello che noi chiediamo con questa interpellanza è chiarezza. Un programma è una grande alleanza tra regione insieme alle altre regioni, con i sindaci e anche con il mondo della scuola, perché raccogliendo anche l'appello del Governo Draghi, si ricominci gradualmente l'attività didattica in presenza. Chiaramente ascoltato e tenuto soprattutto conto dei pareri tecnici del Comitato Tecnico Scientifico. Però adesso è il tempo della chiarezza con un programma serio, ordinato, senza la confusione che abbiamo conosciuto nei mesi e nelle settimane scorse. Nelle scorse settimane le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico avevano portato diversi sindaci abruzzesi alla decisione di sospendere le elezioni in presenza. Tuttora dipenderà dalla velocità della campagna vaccinale, nella speranza che i colossi farmaceutici rispettino il programma di consegna delle dosi. Entro la fine di marzo tutto il personale scolastico abruzzese dovrebbe essere vaccinato. Al momento solo l'ASL di Teramo ha concluso l'immunizzazione di tutti i lavoratori e le lavoratrici del mondo scuola.